Well ragazzi io sono Calabresi e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite signori Allora ci siamo, ci siamo signori, siamo con Tortino 9 che per l'appunto ha detto di essere il compagno di quello che abbiamo battuto Della persona famosa, non so se vi ricordate qualche giorno fa del video uno contro uno che ho pubblicato E adesso è arrivato per vendicarlo Lui mi ha detto che è 10 volte più forte della persona famosa, di cui non ricordo il nome E ovviamente staremo a vedere quello di cui è capace questo Tortino Intanto lo salutiamo, ciao Tortino Bella raga, ma Sidgan sei uno scarsone Chi è uno scarsone? Quindi hai detto che sono uno scarsone? Sì Cioè mi reputi uno scarso? Esatto Vabbè raga, allora mi reputa scarso, intanto il suo amico è già deperito e poi mi ha detto che ero il youtuber più importante L'altro youtuber migliore per lui, vabbè tutte queste cose qua Quindi ragazzi partiamo con questo nuovo format che prevede ovviamente un uno contro uno in creativa normale come è ben successo E poi fatemi sapere nei commenti ragazzi se c'è qualcuno tra di voi che scrive qualcosa di interessante Io lo prendo tra i commenti, ad esempio c'è stato uno l'altra volta che mi ha scritto Ti dono 50 euro, io sono qui, la 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 Insomma abbiamo fatto una sorta di scommessa, va bene? Se queste cose ovviamente senza insultare e senza niente è un nuovo format dell'uno contro uno Intanto io farò una tabella che vi mostrerò In sovraimpressione di tutti i miei uno contro uno, di quelle che ho perso e di quelle che eventualmente perderò E poi quando finisce diciamo il format che mi secca portarlo poi in futuro Faremo il calcolo delle persone che mi hanno battuto e delle persone che mi hanno sconfitto Quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like Supportatemi come creatore GKPR-Calabre Se vi ricordo che in descrizione le mie prossime live verranno effettuate su Twitch, sull'altra piattaforma Avete il link in descrizione, basta che mi followate anche lì e lì giocherò anche con gli iscritti Senza pagare un euro tutto in maniera gratuita Bene tortino, iniziamo subito allora in creativa Se lei è pronto, gentilmente, è pronto? Certo E poi è sempre pronto, è sempre pronto, dici che deve vendicare il suo amichetto Vediamo un po' cosa di cui... di cui sei capace qua, signorino E c'è, sei nervoso, ti sento un po' nervoso, come mai? Ti sento un po' nervoso, sento un po'... che c'è? Le palpitazioni si cominciano a far sentire? Vieni dai Vieni dai, vieni, vieni Ok, ok ragazzi, ok, ok, ci siamo Un nabbino come te, un nabbino come te Sì, un nabbino, ma vediamo che è il nabbino Allora, è pompa blu La metraglietta la vuoi? Metraglietta silenziata? Vabbè, mettiamo la metraglietta silenziata Ok, perfetto Avvio, eh, 3, 2, 1 Mi senti? Perfetto, allora Pompa, salto e mitraglietta E si va Va, allora, iniziamo Prima partita, ci sei? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Uì Ho sbagliato Uì, ora ho la lunga di un porco Mi sono ingarrimato Sottovalutato, l'ho sottovalutato il tortino qua Sottovalutato, ragazzi 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 E rimane ancora imbattuto, signori GG, ragazzi E niente, e niente Niente, GG, mi dispiace Non sei riuscito a vendicare il tuo amichetto pazienza dai ora puoi uccidermi dai ma quindi no a parte tutto ma perché dite che nabo nabo perché perché mo devi dirlo no hai perso mo che dici scusa niente si si cosa si e magari che ne so se magari hai usato le hack eeeh va bene le hack vado va abbandono la partita va salutami il tuo amico famoso vieni in lobby se vuoi che ti saluto pure lei assurdo assurdo e niente ragazzi abbiamo giocato un'altra partita un altro uno contro uno vi ricordo che farò la tabella tra poco delle varie challenge uno contro uno vediamo quante ne vinc e quante ne perdo in tutto l'arco diciamo di queste specie di challenge nei commenti scrivete chiunque mi voglia sfidare uno contro uno quelli più belli i commenti più belli le persone proprio che mi ispirano fiducia li contatterò io personalmente e vedremo di organizzare qualcosina intanto ragazzi iscrivetevi al canale seguitemi su twitch perchè le prossime live si sposteranno lì appunto su twitch niente tortino salutami il tuo amico famoso ci vediamo al prossimo appuntamento si si va bene va bene va bene dai una sconfitta in più in me non è che ti cambia molto no ciao a tutti ragazzi al prossimo appuntamento ciao